L'Unione Europea mette sul piatto 6 miliardi di euro per sostenere e incrementare le economie dei paesi dei Balcani Occidentali nei prossimi 10 anni. L'annuncio arriva dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, durante un tour nella regione. La generosa offerta economica è accompagnata da una serie di ambiziose richieste politiche. The economic package promised by the European Commission to the Western Balkans has the appeal of an opportunity that can only happen once. There is a general mood in favour of enlarging the EU by 2030. It does mean, however, that the candidates will have to accept political conditions that some of their own population might find difficult to accept. The slowly disintegrating world order means that tough choices will have to be made. A Skopje, la Presidente von der Leyen ha chiesto al Primo Ministro della Macedonia del Nord, Dimitar Kovacevski, di modificare la Costituzione, riconoscendo formalmente l'esistenza della minoranza bulgara. Kovacevski dovrà convincere ora l'opposizione nazionalista. Le prossime tappe della Presidente saranno Serbia, Montenegro e Bosnia-Herzegovina. Anche in questi casi l'obiettivo è persuadere i governi a procedere con le riforme necessarie all'adesione all'Unione Europea.